Ciao a tutti carissimi parrocchiani, questo sabato, domenica prossima potremo cominciare a partecipare anche alle celebrazioni eucaristiche con tutta quella fatica dell'organizzazione, della pazienza ma anche la gioia. Però vorrei lasciarvi una proposta, l'eucaristia vissuta almeno questa prima volta in maniera ancora più intensa perché abbiamo preparato meglio quella parola di Dio che ascolteremo e che ci dirà, ci verrà ricordato poi nel momento della consacrazione, fate questo in memoria di me. Che cosa? Quella parola che abbiamo ascoltato. Allora vi propongo di guardare, di seguire quel breve video che sarà salvato sulla piattaforma YouTube della parrocchia da giovedì, nel quale io cerco con semplicità e anche senza complicazioni di qualsiasi tipo e contenendo anche il tempo, di spiegarvi i tre brani della scrittura. Così potrete parteciparvi con una maggiore, penso, intensità e quel sì che direte questa prima volta dopo tanto tanto tempo, sono sicuro sarà più gioioso e anche più convinto e anche più maturo. Vi aspetto attraverso questo video.